La migliore app per notizie e risultati sul calcio in tempo reale? OneFootball Link in descrizione insieme al sito di crediti più economico e affidabile ma soprattutto con la consegna automatica che potete trovare Buona visione Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi signori siamo qui con questo nuovo video della carriera notoria con la nostra Roma prossima parida contro il PSG ragazzi ma prima vi dico, vi svelo insomma di chi è la maglia che ho comprato è ovviamente del super bomber signori Raja Nagolani non so se si vede in teoria sì eccomi qua quindi comunque se avete bisogno di magliette o cose varie trovate il link in descrizione con le quali c'è home avrete uno sconto del bel 20% quindi signori partiamo oggi PSG Champions League abbiamo qui la classifica a marcatori come potete vedere Brent Totti è secondo la classifica a marcatori grazie alla tripletta che va fatto contro il Salisburgo Totti fenomenale in questi ultimi episodi nell'ultimo episodio il gol di punizione veramente pazzescamente incredibile comunque siamo pronti a partire aggiornamento mensile dell'osservatore vediamo un po' se ha trovato qualcosa di buono qui ci sono chiaramente i giocatori che possiamo anche tralasciare ma che possiamo anche ingaggiare questo lo rifiutiamo questo lo rifiutiamo questo sembra buono questo lo rifiutiamo insomma cerchiamo di fare un po' di selezione tenendo solamente il top del top del top 85-83 questo lo possiamo anche lasciare andare e anche questo 85 lo lasciamo andare perché tanto comunque caleranno questi qui la facciamo seguire più da vicino perfetto ottimo lavoro sono contenti di noi la dirigente con l'italiano comunque stiamo tenendo degli ottimi risultati sia in Champions League sia in campionato e speriamo anche quando ci sarà il turno della Coppa Italia adesso però concentriamoci su questa partita perché giochiamo in caso giochiamo contro il PSG facciamo giocare in bianco perché così ci vediamo meglio diciamo Totti è veramente distrutto è cotto speriamo che Dzeko sia tornato si si è piano piano ripreso dall'infortunio ma non è proprio al 100% per il resto farei giocare gli altri magari togliamo Emerson che è stanchino e mettiamo dentro Mario Rui e detto ciò direi che siamo pronti in partita in corso sicuramente entreranno Mbappé che si De Rossi Operotti insomma comunque vedremo come va la partita come si sviluppa la gara mi raccomando superiamo i 2000 mi piace per avere subito domani il prossimo episodio e andiamo a giocarci questa partita contro il PSG tutto pronto signori l'olimpico è pieno per questa partita stringiamoci forte qui la mano su questo stem la baciamo a stamaglia per questa carriera signori per questa partita tutto pronto sapete che a me piace il calcio in generale adesso io faccio lo scemo a volte con una squadra o con l'altra ma a me piace veramente tutto e mi sto veramente appassionando con questa carriera con questa Roma ragazzi e lo spero anche voi quindi in questo momento vi sto parlando veramente seriamente comunque attenzione a Cavani ragazzi loro stanno attenti a Dzeko che è quelle partite in cui è un fenomeno e quelle partite in cui è veramente scarso duro ci siamo ragazzi dai cavolo cerchiamo di vincere questa partita Dzeko riesce a girarsi attenzione Dzeko avanza palla al piede serve qui il compagno Mario lui non ci è arrivato bravo Dzeko però col fisico ha tenuto bene quel pallone Rabiot attenzione qui Dzeko Salah se la mette sul mancino prova a tirare bravo Salah va bene va bene non c'è che va a venire attenzione all'altra parte c'è Di Maria che è mancino si aveva tutto il tempo secondo me di girarsi e mettersela sul mancino però sicuramente va meglio così per noi quindi qui attenzione l'abbiamo lasciato passare occhio qui buono lo scambio ci stanno piano piano aprendo attenzione di là dove sta andando quello madonna è il pallone cosa mi ha rischiato Tiago Dzeko vai Nangolan bravissimo Nangolan qui vediamo Dzeko si chiude bene finalmente finalmente si è svegliato è la sua partita probabilmente di Edin Dzeko qui bravissimo Nangolan che recupera il pallone poi si appoggia Dzeko che la mette dentro e non sbaglia grande Edin finalmente a volte ci fa veramente delle cappelle enormi qui Nangolan TAC la mette dentro per Dzeko che col destro così secca il portiere avversario non so se ci sia trap in porta comunque TAC portiere segato ucciso Edin Dzeko 45esimo addirittura quindi andiamo negli spogliatoi un po' più col sorriso diciamo ok il cross dall'altra parte madonna c'era Cavani lì pronto ok il PSG chiamanza sopra la traversa da stare attenti ben al fa ok il cross che c'è Cavani lì lo sapevo Cavani 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 ci ha purgato al 74esimo Cavani ce li ha il cross è saltato a volto il nostro difensore guardate lì TAC penso sia Kim Pembe che non è arrivato su questo pallone lì la giovinezza l'inesperienza e Cavani ci ha purgato così uno pari c'è un qualche cambio che abbiamo centrocampisti un po' stanchi infatti Tiago in Angolan non ne hanno più un rabbio per questo pallone attenzione c'è Mappé nello spazio Mappé supera l'uomo l'incrocio non è vero ma perché c'è ma è una gioia è il 90esimo attenzione il 90esimo la partita ormai è finita Rabiot che è mancino comunque non avrebbe fatto sicuramente nulla qui tengono il pallone loro finisce uno pari la partita peccato perché erano andati in vantaggio con un buon Dzeko 5 tiri 2 in porta 3 tiri 1 in porta per il PSG veramente un peccato offerta per la Danimarca che sinceramente frega veramente poco concentriamoci adesso su questa Roma il Bologna ci tocca adesso voglio vedere se prima se dopo il Bologna ci dà c'è una partita di Champions League perché nel caso vabbè che turnover ci tocca adesso farlo per forza perché erano i giocatori stanchi comunque dopo ci toccherà l'Atalanta dopo lo stop delle nazionali quindi comunque potremmo far giocare chi ci pare perché comunque ci saranno due settimane di stop ma adesso direi di far riposare chi deve riposare facciamo giocare Totti facciamo giocare Mbappé non facciamo giocare Salah me ne fa la differenza va al centro campo mettiamo Thiago mettiamo che sì mettiamo De Rossi mettiamo Fazio ok e al posto di Emerson facciamo giocare un po' anche Esharawi che è tornato finalmente è tornato Esharawi ragazzi e così siamo a posto andiamo a giocare questa partita torna Esharawi dopo tanto tempo torna Totti vediamo se farà la differenza sarà incisivo incisivo come sempre ok siamo tornati all'Olimpico Roma-Bologna giochiamo in casa in casa per ora stiamo facendo sempre delle belle figure anche la scorsa partita contro PSG comunque uno pari l'importante è non perdere qui c'è Mohamed che è a carico anche perché giocherà di fianco a Totti non di fianco a Dzeko quindi è contento anche lui dai cavolo ci siamo spingiamo di più occhio di là madò come ci ha saltato vai Allison parata ed è entrata lo stesso che sfiga mamma mia e qui c'è una messa dentro siamo stati abbastanza sfortunati parata di Allison la palla che entra dentro lo stesso chi ha segnato Creici Credici ha segnato ma non molliamo attenzione lì per Totti e Shara William ha dato una palla bellissima e sbaglia a Francesco dai cazzo qui ci fa vedere i replay di merda che non servano un cazzo come sempre mamma mia De Rossi si lotta come un drago qui perché sì dentro l'area palla fuori non ci voglio credere c'è ma ha sfregato il pallo di così ho i soliti replay inutili no qui si capisce qualcosina però ci stiamo avvicinando tantissimo guardate lì che palla che gli ha dato pallo goal guardate lì che palla che gli ha dato cioè da noi non ne passa una non ne entra una e loro sempre con Creici fanno queste giocate con Credici ah ma cioè 10 minuti di applausi per sto Bologna perché veramente ha fatto una giocata qui bellissimo guardate lì che palla attacchi il taglio tiro ovviamente nell'unico buco disponibile palo goal giustamente ovviamente doppietta per Credici qui dentro per Nainggolan vediamo Nainggolan qui dentro sì cazzo finalmente una gioia anche per noi prima che finisca il primo tempo ragazzi accorciamo le distanze capitano Nainggolan non so perché non c'è Totti ragazzi ma non mi chiedete queste cose si vede che la fascia da capitano li gasa bello però quell'inserimento di Nainggolan bello il passaggio di che sì e la conclusione di nuovo di Nainggolan distanze accorciate dai adesso pallone mannaggia che sì recuperato vediamo un po' sì andiamo avanti andiamo avanti Florenzi non gli sta dietro Totti chi è questo Salah attenzione e andiamo ha trovato lo spiraglio l'ha messa là porca miseria che sofferenza sto Bologna due pari però partita rimessa lì dove deve stare sul piano diciamo finché non superiamo noi tutto quanto mamma mia qui Totti aspetta un po' Salah se la sposta sul suo mancino vede l'angolino là bello molto molto bello grande Mohamed due pari signori dopo il 2-0 abbiamo rimontato la partita e adesso andiamo a ribaltarla altro che rimontarla lo chiede Sharawi eccolo lì De Rossi vediamo serve Sharawi vai Stefan che si ferma da Dio bravissimo Stefan attenzione qui il pallone per noi in Golan vediamo col tiro giro sopra la traversa sempre quello in crocio largo ci ha provato Raja madonna è che qui secondo me si aspettava beh neanche di troppo si aspettava c'era il difensore pronto a rubargliela lì probabilmente cerca uno spiraglio lo trova in Mohamed Salah che ruba il pallone cerca il suo mancino eccolo lì il Sharawi attenzione da in Golan si gira come vuole lui il pallone è lì ma non ci credo Mohamed l'ha messa a lui è lui è l'undici è l'undici è lui è la fascia alla mano e si prega quei signori si prega per Mohamed insieme a De Sharawi due faraoni due i due egiziani bella la palla qui poi col destro madò pensavo non entrasse infatti ho avuto un attimo di tremore però c'è andato lo stesso 3 a 2 partita completamente ribaltata ma in Golan Salah Salah occhio di qua contro Rüdiger pallone recuperato buono così forse ripartiamo di nuovo attenzione no c'era Mohamed in mezzo vediamo Totti prova a servirlo se l'ha allungata troppissimo perché secondo me ci arrivava lo stesso attenzione qui se l'ha allungata bene Creigi che la mette cosa state facendo finisce qui la partita 3 a 2 dal 2 a 0 al 3 a 2 partita ribaltata ci voleva beh qui si era girato benissimo Creigi ci aveva proprio fregato grandi così però 9 tiri 5 in porta ragazzi non si molla mai un cazzo quindi lasciamo mi piace e andiamo avanti offerta per allenare il Cile che anche qui sinceramente mi interessa poco Lobont vorrebbe essere sperimentato un po' con la Rosa ma in realtà mi dispiace Lobont ma fino lì non posso farti giocare comunque 12 partite giocate siamo a meno 3 dal Napoli che è secondo la Juve a una partita in più attenzione quindi teoricamente il massimo che può fare il Napoli è arrivare a 28 e andremmo comunque a meno 3 nel caso vincessimo anche noi quindi va bene così adesso ci tocca l'Atalanta abbiamo Mohamed Salah con 7 gol che è terzo nella classifica marcatori c'è Pepe che è secondo sempre con 7 gol Banega primo 8 gol comunque va bene così la partita dopo è stavolta mi pare di Champions League adesso ci guardiamo prima e infatti dovremmo giocare contro il Red Bull Salisburgo quindi direi stavolta di fare un po' di turnover di tenere i buoni per la Champions che poi alla fine stanno facendo girare tutti quanti sono tutti buoni facendo giocare anche Perotti magari stavolta come titolare visto che nelle partite scorse ha giocato poco e vorrei provare a farlo giocare in coppia con Totti quindi Totti Perotti sto comunque anche facendo giocare tanto Totti perché sarà la sua ultima stagione quindi ragazzi sto investendo tanto su di lui mi si stanno chiudendo le finestre adesso le vado ad aprire comunque noi ci vediamo in partita Atalanta giochiamo qui nello stadio dell'Atalanta che non mi ricordo come si chiama Atleti Azzurri Italia probabilmente confermatemelo qui sotto con un commento ci siamo però veniamo da una bella vittoria contro Bologna nonostante abbiamo sofferto per tutto il primo tempo abbiamo preso due gol Bologna che è andato al vantaggio di due gol addirittura Leonardo San Milano l'arbitro di questa gara dai cavolo contro l'Atalanta del Papu Gomez attenzione che si l'ex di questa partita Perotti uno contro uno col partire me la sono allungata troppo me la sono allungata troppo ma in golana attenzione cerca un buono spazio c'è la Perotti che prova col destro a girare palla fuori Totti ci prova mamma mia col pollicione in bocca col pollicione in bocca che cosa ha tirato fuori cioè non lo sa neanche lui ha detto io ci provo no vabbè cioè guardate qui recupera il pallone sono 35 metri fate conto 30 dice vabbè tiriamo fuori questo destro e lui si ritira a fine stagione questo è un giocatore che andiamo a perdere ed è una posizione stra importante che deve essere colmata perché uno che ci fa da tre episodi di fila triplette doppiette gol su punizione gol da 35 metri è un gol cioè non mi piace ragazzi per Totti il minimo penso Totti se la sposta sul destro dai non è fallo oh fine primo tempo cioè la punizione lì ci stava è stato veramente tranciato da tutte e due le parti 1-0 gol di Totti nient'altro da dire perché penso abbia già fatto vedere tutto lui Totti ci riprova adesso ci ha preso la mano e ci prova e ci riprova Nengolan recupera questo pallone vuole uscire e parla al piede attenzione Nengolan lo fa anche qui serve il compagno salgono tutti piano piano attenzione bella sto pallone qui per Nengolan ma la traversa assurdo veramente raga assurdo occhio qui all'Atalanta bravissimo recuperato il pallone Nengolan è il novantesimo la partita ormai gli sgoccioli ma non è finita affinché non fischia l'arbitro Bruno Perez vai Bruno Perez che ne hai si ferma Bruno Perez attenzione il compagno bellissima la palla non ci credo dai ma che cosa sta succedendo non vuole entrare fortunatamente te l'arbitro fischia la fine comunque lì è successa una roba pazzescamente incredibile 1-0 partita che viene a casa grazie al siluro di Francesco Totti sempre un protagonista e spero che lo sarà ancora quindi ragazzi però sono strassoddisfatto di questa Roma che in campionato sta andando bene in Europa sta andando bene perché comunque qui in Champions League nel girone siamo secondi se battiamo il Salisburgo teniamo testa al porto e poi nello scontro diretto cerchiamo di batterli appunto e di andare a passare il turno come primi per oggi è tutto se siete nuovi iscrivetevi al canale in descrizione Facebook, Instagram shop delle mie magliette personali di K-Show delle magliette da calcio ragazzi ricordatevi che con il mio codice sconto home avrete uno sconto del 20% mi raccomando quindi grazie del supporto grazie di tutto e come sempre da me e da Francesco e Totti è tutto e noi ci vediamo al prossimo video